Un hub unico regionale o anche uno per provincia, in casermo o altri edifici pubblici inutilizzati che funga da centro di prima accoglienza per i migranti. Stop invece all'indiscriminato business dell'accoglienza da parte dei privati con la cancellazione di finanziamenti della legge 77 e l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione. Sono solo alcune delle proposte del gruppo in regione di Forza Italia, al centro del Consiglio regionale straordinario di oggi pomeriggio, convocato per discutere delle analisi sulle corrette politiche della regione Abruzzo per la gestione dei flussi migratori. Un tema esplosivo, ha sordito il capogruppo Lorenzo Sospiri. A Montesilvano si accolgono 500 migranti in poche centinaia di metri. Ci sono cooperative e associazioni in calza sospiri che affittano bettole e le riempiono di povera gente pur di intascare 35 euro pro capita al giorno. Paesini che da un giorno all'altro si vedono piombare in alberghi migranti in numero non sostenibile per piccole comunità. No, noi abbiamo una serie di proposte, la cui prima per rendere l'accoglienza non un'emergenza, più dell'emergenza che già è, è che la regione si doti di uno più hub regionali in cui le prefetture possono gestire i flussi in arrivo in maniera emergenziale e poi queste persone vengano distribuite sui territori in maniera equanime. Ci sono una serie di proposte per interrompere il business della solidarietà. Non è solidarietà, è un business. Le strutture devono avere le stesse caratteristiche per ospitare un qualsiasi altro cittadino assistito socialmente. Le strutture devono rendicontare lira per lira come spendono i soldi e certamente non possono partecipare come i loro colleghi ai bandi per migliorare l'offerta turistica perché il loro fatturato non è fatto di offerta turistica. E c'è un altro aspetto che va finalmente affrontato, ha evidenziato i migliori ampieri che è anche Presidente della Commissione Migrazione. Nei migranti accolti in Abruzzo, circa 4.000, solo una piccola percentuale ottiene il diritto di asilo, circa il 14%, anche dopo ricorsi al Tarre. Gli altri migranti economici perdono ogni forma di assistenza e semplicemente vengono messi alla porta dei centri di accoglienza. E nessuno sa che fine fanno, vi sono previsto il loro rimpatrio. Questo poi è un meccanismo che nel medio-lungo periodo crea clandestinità, crea potenziale adescamento di queste persone da parte della criminalità organizzata, da parte delle associazioni delinquere, che magari vogliono lucrare sulla condizione di bisogno e di estrema necessità che queste persone hanno. Non credo sia un modo civile per agire. Avrebbe ottenuto con false attestazioni e la complicità di un tecnico fondi per la ricostruzione della propria abitazione principale gravemente lisionata dal sisma del 6 aprile 2009. Con l'accusa di indebita percezione di un contributo a post-sisma, corrisposto dal Comune dell'Aquila, sono finiti sotto inchiesta due aquilani, un privato cittadino e il suo professionista di fiducia. A oltre sette anni del terremoto, i due hanno subito un sequestro preventivo per una somma complessiva di circa 170.000 euro, eseguito dagli uomini del nucleo di polizia ributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, coordinati dal tenente colonnello Sergio Aloia. Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, a cui sono state assegnate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal GIP del Tribuna dell'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta dei sostituti procuratori Fabio Picuti e Simonetta Ceccarelli. Gli investigatori avrebbero accertato che con falsa documentazione l'immobile beneficiario della misura di sostegno pubblico era adibito adibitazione principale e stabile mimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale del cittadino all'epoca del sisma si trovava presso un altro indirizzo. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili ai responsabili dei reati accertati. Mancano solo due giorni alla scadenza del termine perrentorio fissato dall'amministrazione comunale, entro il quale 719 nuclei familiari dovranno presentare le integrazioni richieste per accedere al rimborso dei beni mobili danneggiati dal sisma del 2009. La denuncia arriva dai consiglieri salvignani in Prudente e Deramo e da Angelo Mancini, ex-DV, attualmente della lista civica all'Aquila Oggi. 10.000 euro l'indennizzo massimo a cui si può accedere, 5 milioni la spesa calcolata dal Comune, fondi che per gli esponenti delle linee di alleanza il Comune vuole risparmiare sulle spalle dei cittadini. Annuncio poco trasparente e per di più nascosto sul sito del Comune. In nome di questa poca trasparenza e pubblicità viene richiesto di riaprire i termini per presentare le integrazioni e dare adeguata comunicazione ai cittadini interessati. Questo termine perentorio è stato stabilito in una determina dirigenziale che le persone non conoscono, pubblicata soltanto sul sito del Comune con un avviso che stabilisce, dopo la pubblicazione di questo avviso, i termini di scadenza in 30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso pubblico. Rischiano di rimanere fuori 719 persone che hanno presentato domanda nei termini che hanno fissati a febbraio del 2010 ai quali non è stato chiesto nessun tipo di integrazione direttamente. Noi chiediamo che l'amministrazione contatti direttamente le persone che hanno prodotto domanda specifici quali sono l'integrazione che le persone debbano fare e liquidi gli indennizi. Parliamo di circa 5 milioni di euro per 719 pratiche per le quali sono richieste delle integrazioni e la cosa assurda è che questo tipo di percorso amministrativo e burocratico non è stato reso pubblico a dovere in città, non sono state contattate le 719 famiglie che hanno diritto a ottenere il rimborso e questo sembra proprio il classico atteggiamento di un'amministrazione che non vuole pagare ben 5 milioni di euro alle famiglie della nostra città.